Bertolasio è il candidato proposto dagli alleati a cui noi abbiamo detto sì, però ripeto, fra il sì e le elezioni c'è di mezzo al parere dei cittadini romani. Quindi potreste spilarvi qualora i cittadini romani? No, 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 io Bertolasio non l'ho ancora incontrato, mi riprometto di incontrarlo, però ascolto la gente, ascolto tanta gente e quello che dice tanta gente ovviamente incide sulla mia decisione finale. Me lo aspetto da Nichi Vendola la dichiarazione che i rom sono una categoria vessata e penalizzata. Diciamo che per un candidato che vuole vincere le elezioni con la Lega, dire che hai sostenuto Rutelli, che voleresti il PD e che i rom poverini vanno aiutati non è il massimo come partenza. Tutte le partite sono sempre aperte.